Epale, la community europea per l'educazione degli adulti. Lavori nell'educazione degli adulti? Sei un docente? Un formatore? Un esperto? Vorresti trovare nuove idee, nuovi stimoli per migliorare il tuo lavoro, ma non sai dove cercare? Entra a far parte di Epale, la community europea dei professionisti dell'educazione degli adulti, rivolta all'educazione formale e non formale. Una piattaforma multilingue, ricca di risorse e di opportunità, sempre aggiornate dai 37 paesi aderenti. Con oltre 110.000 iscritti in Europa, Epale mette in contatto le persone per costruire reti e collaborazioni professionali. Vuoi guardare oltre i confini del tuo territorio? Attivare collaborazioni internazionali? Ti piacerebbe realizzare un progetto di formazione per gli adulti coinvolgendo anche partner stranieri? Oppure stai pensando di fare un corso di formazione all'estero e non sai come iniziare? Epale offre spazi di formazione e opportunità di aggiornamento per migliorare il lavoro di chi si occupa di educazione degli adulti ogni giorno. Epale è anche lo strumento ufficiale della Commissione europea per la ricerca di partner nell'educazione degli adulti, per realizzare nuove collaborazioni locali, nazionali e internazionali e per creare progetti nell'ambito del programma Erasmus+. E infine, vuoi rendere più visibili le attività che realizzi? Epale consente di pubblicare direttamente i tuoi articoli anche in più versioni linguistiche e segnalare gli eventi e i corsi che organizzi su un sito con milioni di visualizzazioni, per coinvolgere più persone e per arrivare più lontano. Epale è la community che cercavi per informarsi quotidianamente su cosa accade nel tuo paese, in Europa e non solo, per imparare dalle esperienze altrui e promuovere le proprie, per trovare studi e ricerche ed analisi sulle politiche nazionali ed europee, per connettersi con nuovi colleghi europei ed iniziare a progettare insieme, per unirsi a spazi di lavoro condivisi, flessibili e partecipativi, per trovare opportunità di formazione, gli eventi e le conferenze rivolte ai professionisti del settore in tutta Europa. Scopri la piattaforma Epale. Apri il tuo lavoro all'Europa. Grazie. 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 Grazie.